Raffaele Biancucci una vittoria chiaramente molto importante che fa morare oltre che classifica la sconfitta della rotellistica Camaioli con la Pumas vi consente di stare soli in testa di questa classifica? Sì, io guardo i risultati della mia squadra fondamentalmente, è presto per guardare i risultati degli altri stasera sono contento, questa è una squadra di ragazzi giovani molto bravi sono partite che si possono mettere in tanti modi, abbiamo fatto una buonissima prestazione siamo partiti bene, siamo partiti forti, abbiamo fatto quello che si doveva fare siamo andati sopra subito di qualche gol e chiaramente questi sono ragazzi giovani loro hanno un po' mollato e poi dopo la qualità dei miei giocatori è venuta fuori A proposito di questo c'è stata la possibilità di dare spazio anche ai giovani della vostra rosa? Sì, questo mi fa particolarmente piacere, ha girato tutta la panchina, insomma tutta la rosa e hanno fatto molto bene, tutti i ragazzi che sono entrati Davide e Andrea Valistrieri hanno anche segnato, sono contento per loro Palla lo stesso in fondo? Sì, Davide Palla, Davide Palla ha segnato e sono contento per loro sono tutte le situazioni che portano serenità all'ambiente, alla squadra Emiliano Torre è lo stesso in porta, ha mantenuto inviolata la sua porta Ha fatto una grandissima prestazione, non ha preso gol quindi tutte situazioni positive, tutte sensazioni positive, la squadra ha girato bene per oggi tutto bene Grazie e in bocca a loro Grazie